Musica Ciao ragazzi, qua sempre il vostro Volpo81 e oggi siamo su ACT of War allora cominciamo subito operazioni, nuova campagna avanti allora facciamo normale campagna e avvio da qualche parte nel desert lì dice maggio e che non 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 Squadra d'assalto in posizione, signore. Tenersi pronti. Com'è la situazione? Tutto come previsto. Ingaggio imminente. Lo vogliamo vivo. È tutto sotto controllo. Così mi è stata la mia spina nel fianco per troppo tempo. Mi metta in contatto. Maggiore, confermi posizione. Maggiore, confermi posizione. Maggiore, ripeto, confermi che tutti gli uomini sono in posizione. Affermativo, non ha nulla di cui preoccuparsi. Ok, gente, via libera. Andiamo. Via libera, andiamo. Pari a tutto, Jefferson, fuoco a volontà. Ok, va bene. Pronto. Andiamo verso di qua. Terroristi in vista. Attacchi. Attacchi. Terroristi eliminati. Terroristi. Ricevuto. Ci siamo. Solo con lui. Terroristi in vista. Mario Detti è terrorista. Perfetto, Jefferson. Elimini ogni presenza ostile e ottenga il controllo dell'obiettivo. Si diverte. Come se? Perfetto, signore, 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 signore. Sotto attacco. Perfetto, mi muovo. Ammazzatevi. Pronto. Bravo. Terroristi in vista. Terroristi in vista. Via. Terroristi in vista. A volto io individuato. Terroristi in vista. Via. Ehm. Ehm. Ci ammazzate tutti. Tutti. Se ne occupi subito, Jefferson. L'arrivo del black oak è imminente. Ehm. Tutti. Ammazzate tutti. Ehm. 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 Erroristi in vista, ti ho individuato un'attività, erroristi in vista, ho ricevuto un'attività, attacco immediato. Sono pronto. Ora è il mio prigioniero. Mi danno giunto a perdonare. C'è me? Pronto. La poltoio è in gabbia, signore. Torniamo alla base. Andiamo via. Forza, forza, forza! Ottimo lavoro, Jefferson. Ora potrà finalmente rilassarti un po'. Maggiore, preferirei spassarmela con una bella ragazza. Delta 6 a Bravo 4. Risperiamo questo posto all'età della pietra. Passo e chiudo. Mia! No! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inviaremo la Task Force Tau. Signore, con tutto il rispetto, Richter e i suoi sono fuori dalla normale catena di... È il consigliere per la sicurezza nazionale. Decide qui. Voglio un rapporto ogni ora, Robert. La Task Force è la operativa Londra in 12 ore. È una squadra esperta ed efficace. Quei ragazzi possono gestire qualsiasi situazione critica. Ottimo, esiguale. Come vanno le cose da quelle parti, Jefferson? Male, signore. È il più grande e dannato ingorgo che abbia mai visto. Non è la Libia, eh? Negativo, signore. Non proprio. Ci servite sul posto prima che arrivino gli invitati. Pensate di poterci riuscire? Negativo, signore. Allora scendete tutti dal furgone e raggiungete a piedi la posizione. Precevuto. Jefferson, faccia avanzare la sua squadra verso il muro e raggiunga i cancelli del palazzo. Ricevuto, signore. Ci siamo. Maggiù. Sei, Jefferson? Perché ci hanno chiamato per dirigere il traffico? Semplicemente perché dobbiamo esistere gli ordini del consigliere per la sicurezza. Chiaro? Ok. Che mi dici di che sei? Non c'è entristato qualcun altro a organizzare l'attentato di gusto. Ma se questo qualcuno è qui a forum per energia, beh, è meglio tenere gli occhi a peggio, c'è questo. Vogliamoci. Ricevuto, ci muoviamo. Ma mettevi. Ricevuto, ci muoviamo. Permesso, fate largo. Dobbiamo passare. Tutto a posto, potete passare. È bello a perdere qui. Jefferson, prenda posizione di fronte a Buckingham Palace. Ricevuto, ci muoviamo. Ricevuto, maggiore. Mi aggiorni. Tutto tranquillo, finora. C'è molta gente, ma la polizia sembra avere tutto sotto il movimento. In movimento. Siamo nella piazza, maggiore. Attendiamo ordini. Prenda posizione vicino alla guardia della regina. Ricevuto, andiamo posizione. Sì. Ricevuto, ci muoviamo. Tenga un basso profilo, Jefferson, e cerchi di fare bella figura con la sua squadra. Ordini diciamo. Gli occhi di tutti ci sono addosso. Signore, condotteremo il nostro vero lavoro. Mi metterò in contatto all'arrivo delle limusie. Tenetevi pronti. trainulu, c'è stato silhouette. Mi metterò in contatto all'arrivo delle limusie. Di tutti ci sono tardi, un po' di maggiungio. Per l'arrivo delle limusie. Ciao, ecco maggiore. Grazie a tutti.